Io inizierei la carrellata con Giovannini che vedo già collegato grazie di essere con noi perché insomma vorrei partire dalla sfida che anche lei aveva lanciato tempo addietro che è stata raccolta dalla società civile, dagli operatori e anche dal comparto biotech anche in merito all'attenzione su quella bioeconomia sostenibile, quel modello di circolarità. Le chiedo, lei ha dichiarato il mondo senza innovazione non ha futuro e oggi fare innovazione significa soprattutto investire in azioni di economia circolare e open innovation. A che punto siamo a suo avviso anche alla luce di questa situazione di emergenza? Buon pomeriggio a tutti intanto grazie per questo invito. A che punto siamo? Non stiamo messi proprio benissimo sia perché questa crisi sta colpendo i 17 goal dell'agenda 2030 non solo in Italia in modo molto duro. Ci sono vari obiettivi, la povertà, l'alimentazione, la salute, l'educazione, le disuguaglianze, il reddito, l'innovazione che sono colpite negativamente da questa crisi economica così forte e così pervasiva. Ma dall'altro non siamo necessariamente ancora messi bene perché l'Italia sta ancora lavorando al proprio piano di ripresa e resilienza. Cioè quello strumento attraverso il quale poi l'Unione Europea dovrebbe finanziare le attività all'interno del cosiddetto recovery resilience facility, non recovery fund che non esiste. Scusate se lo ripeto continuamente perché non è qualcosa che andando all'estero uno parla di recovery fund, ma di che parlate? Perché si chiama Next Generation EU e cioè quei fondi devono servire a immaginare una nuova generazione di imprese, di lavoratori, di cittadini per un'economia in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030. Perché non siamo messi benissimo? Beh perché intanto il nostro paese è disabituato da una trentina d'anni, forse anche di più, a fare programmazione strategica espansiva, se posso usare questo termine, invece che una programmazione per capire come tagliare il bilancio pubblico. Non a caso non abbiamo neanche un'istituzione che si occupa di queste cose. Noi ribadiamo da tempo l'invito al governo a creare un istituto di studi strategici per il futuro, a servizio del governo stesso e del Parlamento, per immaginare quale può essere il nostro futuro. Noi non ce l'abbiamo e ahimè si vede abbastanza chiaramente, anche perché se confrontiamo le linee guida del governo sulla preparazione del piano di ripresa e resilienza con quelle spagnole e quelle francesi, tanto per fare due esempi a noi vicini, beh scopriamo che, non è una battuta purtroppo, nel piano francese la parola futuro è presente 18 volte, in quello spagnolo 18 volte e nel nostro documento è presente 0 volte. Zero. Lo dico perché che cosa stiamo provando a fare? Stiamo provando ad assemblare progetti invece di domandarci dove vogliamo essere tra dieci anni e da lì ricostruire i progetti che servono. Comunque, al di là di questa critica che ci fa dire che siamo un po' in ritardo, non tanto nella preparazione del piano ma nella concezione del piano, tutti dobbiamo cercare di aiutare perché open innovation, economia circolare, transizione ecologica, lotta alle disuguaglianze, digitalizzazione, che sono poi le parole chiave del Next Generation EU, diventino veramente la guida dei progetti nazionali. Senta Giovannini, pochi giorni fa il Guardian ha detto che l'emergenza pandemica è un giano bifronte rispetto anche all'emergenza ambientale, dobbiamo vedere questo come un tutt'uno e insomma Ilaria Capua commentando anche questo intervento ha detto che bisogna arrivare a una visione e un approccio One Health, una visione di economia nella salute circolare. Su questo lei ci parla poi anche delle parole che sono importanti nel documento, questo concetto di futuro ci manca e adesso lo commenteremo anche con i prossimi ospiti e anche soprattutto con il nostro sottosegretario che tra poco avremo collegato. Ma come riuscire a far comprendere che c'è questo binomio emergenza ambientale, emergenza sanitaria, come aumentare la consapevolezza a suo avviso anche in maniera allargata, non solo degli operatori ma anche dell'opinione pubblica? Ma guardi secondo me, lo dicono tutti i sondaggi, questo click è stato fatto da tantissime persone che hanno capito che quello slogan che Ilaria Capua ha ripetuto ma è lo slogan del WHO, del World Health Organization da molti anni One Planet One Health oppure detto come l'ha detto splendidamente Papa Francesco non possiamo essere sani in un pianeta malato e alla causa e alla radice delle tante emergenze che ci troveremo ad affrontare nel ventunesimo secolo. Come gli scienziati ci avevano detto, io personalmente ho deciso di fare l'economista al secondo anno di università nel 1976 leggendo proprio un libro sul caos che il mondo avrebbe potuto essere intorno a questo periodo perché lo sapevamo che qui si sarebbero strette in modo molto pericoloso questioni ambientali, questioni economiche, questioni sociali. Ed è qui dove abbiamo bisogno di una grande capacità di fare sistema, non solo nazionale ma anche europeo e qui la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen ha dato prova di coraggio. Solo quattro anni fa quando facevo consulente della precedente Commissione parlare di sviluppo sostenibile, di rischi di vulnerabilità e dunque costruzione di resilienza erano considerate parole quasi da non pronunciare anche perché, me lo ricordo perfettamente, si diceva, beh come facciamo a dire ai cittadini che il futuro sarà pieno di shock? Ecco adesso i cittadini l'hanno capito perfettamente, ahimè, ed è qui dove le leadership, ma non solo politiche, anche quelle culturali e aziendali devono dare questo senso e per darle un'idea di nuovo di come l'Unione Europea stia correttamente identificando non solo le priorità ma anche gli strumenti aver scelto di finanziare il 75% del Next Generation EU e tutto il fondo SURE, quello contro la disoccupazione, usando Green Bonds e Social Bonds farà sì che l'Europa diventerà il primo emittente mondiale di titoli privati pubblici orientati alla sostenibilità perché questo va nella direzione delle preferenze dei cittadini e questo apre anche spazi alle imprese che seriamente, non greenwashing, vogliono cambiare il modello di sviluppo perché è di questo che stiamo parlando. Il modello di capitalismo negli ultimi 40 anni ha prodotto risultati importanti anche se devastanti sul piano ambientale e non ha risolto i problemi delle disuguaglianze probabilmente il capitalismo in questa fase, come si diceva solo un anno fa, è pronto a fare un nuovo cambiamento nella direzione della sostenibilità, anche perché l'alternativa è un capitalismo insostenibile che credo non gioverebbe a nessuno.